Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, finalmente sono ritornato dopo aver fatto un piccolo turista, un piccolo tifoso, insomma ho fatto tutto a Napoli praticamente io sono tornato molto stanco però molto soddisfatto per questo grandissimo pareggio ottenuto sul campo di Napoli, veramente un pareggio incredibile ragazzi quindi sono molto molto contento come sicuramente tutti quanti voi, ma io ve l'avevo già detto, la squadra c'è, quando la squadra c'è vuol dire che se la può giocare con tutti ma la cosa che mi è piaciuta di più, cioè voi vi pensate, la cosa più importante è che il Lecce, cioè non gioca un po' orato contro Napoli, contro l'Inter gioca a testa alta, cioè gioca con personalità, cioè come se il Lecce e Napoli fossero sullo stesso piano, io questo ho notato, fatemi sapere cosa ne pensate ma ogni partita ho notato che il Lecce è come se io sto giocando contro la squadra più forte però non mi sento di meno, cioè mi sento che sono alla stessa altezza sua posso perdere, posso vincere, però partiamo sullo stesso livello, anche se in realtà non è così vecchio sulla carta, tutte le squadre in Serie A sono più forti del Lecce sulla carta però se una persona si prende forza, prende coraggio, grinta, questa cosa qui, qualsiasi persona, cioè come devo dire, vai oltre le tue possibilità e quindi puoi giocare contro squadre più forti tra virgolette alla pari, quindi io questo qui ho notato ecco la differenza, ecco la differenza, cioè è veramente importante, fatemi sapere cosa ne pensate di questo punto perché per me è molto importante, io ho notato questo, quindi ecco perché poi arrivano i risultati perché i giocatori, anche Magnoni, i camporati, sciocano con l'usango, a parte che giocano con l'usango a Lecce perché se non giochi, non è che devi impegnare di più, devi andare oltre, 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 oltre se non vai oltre non puoi mai togliere sto gap tecnico che c'è con le grandi squadre e pichi 3, 4, 5 gol, non ti distruggono, ecco perché è importantissimo giocare con questa personalità e speriamo che questa cosa va sempre crescendo e probabilmente otterremo una grandissima salvezza ma questo è un dato di fatto, speriamo ovviamente, però sicuramente lotteremo fino all'ultima giornata che sono squadra più giovane, la media è di 23, qualcosa, quindi la squadra più giovane della serie A non solo della serie B, comunque questo è un grandissimo dato perché se noi ci salviamo quest'anno con tutti questi giovani che hanno fatto un anno, poi fai due, poi fai tre anni, cioè questa è una squadra che può andare per anni, con qualche piccolo innesto, magari un giocatore lo vendi e fai una mega plusvalenza uno, lo sacrifichi, cioè questo bisogna fare per poter rimanere in serie A, speriamo, comunque per quanto riguarda il mercato, secondo me otto è in pagella, più che è meritato, sia per quanto riguarda le uscite che ha tolto tutti i giocatori che non servivano tranne Bjorken che pure mi dispiace, e anche negli acquisti perché comunque ragazzi, il Lecce, da quello che ho fatto un po' di calcoli, ha speso meno, quest'anno era piccata dell'anno scorso, ci ha speso veramente poco, quindi ha giocato molto sull'intelligenza sull'intelligenza e sul fatto di scovare i giocatori, di Corvino, e quindi ragazzi, bisogna lavorare bisogna lavorare, molto, molto, quando lavori, 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 alla fine sì sono importanti i soldi ma sono più importanti le idee, cosa devi fare, cosa non devi fare, puoi t'ascire buona a tiro picca del culo perché Baschirotto, 350.000 euro, preso dall'alcola, che non ha mai, nessuno, nessuno si aspettava un giocatore del genere, non mi dite, ma io Baschirotto la sapia, no, perché anche io non me l'aspettavo infatti ho detto, ma come cazzo è Stadamo Calabresi se applichiamo Baschirotto, io queste cose me le ricordo a differenza di molti di voi, io le cose, tanto stanno pure registrate, non me lo sarei aspettato cioè io all'inizio mi ricordo che è stato, come devo dire, però io ho detto spero che poi Baschirotto mi smentisce, non so se vi ricordate, alla fine mi ha smentito, ma questo è un esempio ma su tanti anche altri giocatori, vabbè, Juhlman comunque si sta confermando, per noi è una cosa buonissima e quindi ragazzi Falcone l'ha messuto, Gendrè sta andando forte, Gallo per me sta andando bene il Tuya ieri ha giocato, l'altro ieri è andato bene, centrocampo, centrocampo per esempio Gonzalez, chi se lo aspettava, eppure se lo sciocca bene o mai, cioè la prima volta gioca in Serie A non non gioca in Serie A, gioca in un calcio professionistico, la prima volta, quindi immaginatevi voi l'unica cosa che manca quella mezzala, tipo la Norman, quella purtroppo, quella è stata, vorrebbe essere la ciliegina sulla torta però purtroppo, ma è stato meglio che non ha preso Giavaraga e Mediano, Acta Po, Giai che in tre anni non ci ha fatta manco una rete manco per lontanamente, i giocatori già non servivano, ha fatto buono, non le piglia andiamo a pigliare un centrocampista offensivo Casegna, che negli ultimi anni ha segnato quello dovevamo prendere, che aveva pure esperienza di Serie A, dove avessi dovuto fare l'investimento di spendere i sordi, ed era pure difficile comunque da trovare quello sarebbe stato buono, quello sì, una mezzala veramente forte, offensiva, non difensiva perché diremo tutte però, comunque, ragazzi, è bene e c'ha i piedi buoni, potrebbe fare la mezzala Elgaso è l'unico, secondo me, veramente, è così, mezzala offensiva che può anche segnare c'ha quelle caratteristiche, certo deve crescere tantissimo, però a differenza degli altri che difendono lui difende meno, però è più bravo negli inserimenti, ecco perché l'ha messo lì a Napoli quindi noi ci aspettiamo che lui, speriamo, possa esplodere, ma anche per lui stesso e diventare quella mezzala forte, perché lui, lui, sì, secondo me, ha le caratteristiche per fare quella mezzala forte, avanti che possa segnare qualche gol l'ha fatto, oppure pochissimo l'ha fatto, proprio è di inserimento con buona tecnica, ovviamente, è l'ongerino, ma serve più un giocatore offensivo che difensivo, diciamo, in quel ruolo ovviamente se ne è notato il prumenchio, vabbè, è normale per quanto riguarda attacco, strevezza, alti e bassi un po' però ha fatto bene a tenerlo e banda, vabbè, è inutile neanche, cioè non voglio neanche commentarlo a banda perché veramente è stato un colpo di Corvino mi sa che l'ha pagato 2 milioni, se non mi sbaglio è stato uno dei investimenti più importanti e si vede, insomma, comunque viene da un campionato israeliano veramente che non c'entra niente con la Serie A e pur sta faccia la differenza quindi tutti gli acquisti che sono stati allora, per ora mi pare che la maggior parte l'ha ammestuti degli acquisti che ha pighiato poi che siano prestiti, diritti, contradditti pur, per esempio, Colombo, io pure lo stesso gli ho detto non vale, non vale è pure un buono smentito ragazzi, criticare se è un giocatore a parte che io ho detto, io ho detto, l'ultimo video ho detto che Colombo ancora è stato cioè, ha giocato poco per poterlo giudicare 36 minuti, ha giocato poco che poi ho detto, secondo me, non è un bel adatto alla Serie A l'ha giuditta però è proprio presto per giudicarlo infatti a mio cugino gli ho detto che quando stavamo lì a Napoli gli ho detto che avrebbe giocato prima, io manco lo sapevo che avrebbe giocato Colombo io gli ho detto io se fossi allenatore gli darei fiducia a Colombo lo metterei in campo proprio per vedere cioè, come devo dire per poterlo giudicare e cazzo se non lo menti come cazzo facci con lo giudichi quando uno gioca 5 minuti non è una partita si, può tirare la botta di culo casegna però se non lo menti c'è culo della partita non è venuto Laura e dice Laura quando cazzo facci? ecco perché l'ho messo di tolare e mi ha dato un piezzo quello è stato un po' ingenuo sul fatto del fischio là, vabbè del rigore, vabbè però, comunque a parte il gol ancora, diciamo una che che abbia dimostrato chissà che però, comunque per me allora per me come coda molte volte coda c'è facile giocava a fiacco e poi non avanti si va risolvendo la partita l'attaccante non serve che gioca a buono menti di bulancapu a segnare in serie A a tenere in occasione e a segnare basta puoi far buttare 9 minuti che adegrati le palle basta ovviamente se gioca meglio è meglio se procura falli se si inserisce se si fa trovare viene incontro ai centrocampisti fa possesso palla gira fa sbatte ovviamente è chiaro però se un giocatore gioca male e segna qui c'è l'importante e lo è l'attaccante vero di razza boh un gol casoni e gol do casoni e gol bello è basta e noi li giriamo intorno qui c'è a fare colomba a me la lupia e se a segnare basta poi se fa di più è meglio è chiaro ben venga però quello è l'importante quindi ragazzi per me un 8 in pagella più che è meritato per il Lecce se c'è stato una mezzala abbiamo arrivato pure a 8 e mezzo 9 fatemi sapere cosa ne pensate io veramente contento di questo mercato abbiamo speso poco sì abbiamo preso qualche diritto sì comunque il giocatore che secondo me ancora di tutti quelli ha comprato il giocatore che hanno picca come devo dire non ci ha messo tu per moi e Bistrovic perché gli ha dato la possibilità di giocare due partite ma sicuramente è che lo vedo molto lento e molto impacciato i piedi buoni ce l'ha la tecnica ce l'ha però ancora non si è adattato al calcio per me lui potrebbe essere un flop quest'anno perché comunque ha giocato partite titolare ha sciocato che poi vabbè è stato sostituito dopo 45 minuti quindi comunque te l'ha data la fiducia però Vagnoni mo l'unica cosa è concitiamo i giocatori ho sciocato un buono ho sciocato un fiacco pur Pezzello ha fatto una grande partita speriamo di vedere un titi quanto prima a difesa frate mio con il baschi rotto può sciocare solamente mamma mia incredibile ma tutti tutte le palle prende sembra catena la calamita tutte le palle lampo lampo l'amico mio Alfredo lo youtuber totalfredo ha detto quest'anno baschi rotto l'ha detto ancora l'ha visto solamente con l'inter la prima partita ha detto lui non c'è non ti fa manco lecce quest'anno sarà baschi rotto sarà rilegazione lampo l'ha messuta sai è incredibile per ora speriamo lo signore con l'aiuto a noi a tutti quanti i giocatori comunque fatemi sapere cosa pensare quello che ho detto per me tutti i giocatori che ha preso hanno dimostrato qualcosina c'è chi più c'è chi meno per ora è ancora presto speriamo solamente di crescere e basta di continuare su questa strada se giochiamo con quella personalità che noi ce la giochiamo con tutte quello anche con la Juve te la asciugare io non piace la Juve è venuta mia a tu cazzo sta iscritto ma la devi asciugare capo perdo 3 a 0 2 a 0 1 a 0 gioco eh non fa niente sciucamo ogni la con tutti sciucamo a testa alta forza Lecce a Torino speriamo almeno di un risultato positivo alla posta e che poi ci aspetta un trittico di partite Monza non sbaglio Monza Sanitano e Cremonese lì veramente là veramente la ruca a giocare è buono fiacco ce la tocca ben cimo comunque ancora Baroni non ha vinto il Serie A Baroni quando cazzo puoi vincere il Serie A speriamo quanto prima mannaggia no comunque dai stiamo andando bene dai speriamo bene dai alla prossima ciao a tutti ragazzi continuate a seguirmi e iscrivetevi grazie a tutti